Si chiama Cinema ed è una piattaforma online per offrire nuove possibilità al cinema indipendente. Claudio Ciccarone. Il mondo del cinema è frequentato da tanti artisti capaci di produrre opere di alta qualità che però non riescono a trovare un produttore coraggioso. Nasce così il cinema indipendente, autoprodotto che comunque non ha parco scenico. L'idea giusta è venuta a Nicola Guarino e Dina Riniello, napoletani appassionatissimi della settima arte e del cinema puro che hanno creato la piattaforma online cinema per dare la possibilità a giovani cineasti di distribuire i propri lavori in streaming su una piattaforma semplice e intuitiva. Per cominciare a dar visibilità agli autori e far conoscere la piattaforma è stato istituito il premio Cinema Rassegna Italia che dichiarerà a fine gennaio il vincitore tra 12 film autoprodotti che fino al 20 dicembre saranno visibili in live streaming gratuito per chi si registra su Cinema Club.